Ciao ragazzi, oggi siamo nel K-Planet content in Milano, nel Salone di Tessuti, per mostrare live la espressione coreana del World Month, la missione mondiale di K-Coensel Academy. Questo è un evento gratuito, sviluppato durante 10 giorni, che ha dato a visitori un'esperienza entire coreana, con diversi attività come K-Beauty, K-Pop dance lessons, karaoke, animazione, K-Fashion, host, e eventi speciali ogni giorno, a piece of Korea in the art of Milano. Grazie a tutti. 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 Allora, facciamo una domanda. Chi è che già ballerino qua? Si vorremmo imparare la coreografia S20, maestro, in molte varie. Chi è che conosciamo già la coreografia? Chi è quello più sicuro? Sì Iniziamo Allora vi presento Nostro maestro e insegnante Nix Ciao a tutti Allora Allora Vi presento Nostro maestro Nix Allora Iniziamo adesso Puliamo il piede destro davanti Come se fosse direttore d'orchestra D'orchestra Un tempo da qua Uno, due, tre, e quattro Uno, due, tre, quattro Lascia la faccia scendere su Con la gamba Al fuori Al fuori Guarda l'uno, crociate Tutti i movimenti iniziano a parlare Lalla La 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 musica 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 Un saluto. Questo evento mostra come i koreans know a lot about style, it's not just about having taste interesting but having taste in doing rips in a way that is never boring but fun and personal. Style. They all style as an attitude to life. Live the most of Korea. Annyeong.